La Casa delle Donne La Casa delle Donne La Casa delle Donne La Casa delle Donne Ma c'è anche una progettualità Non c'è solo la rappresentazione di un disagio, di un problema, di una resistenza Ma è di una progettualità Perché dietro questa resistenza c'è esattamente un'idea molto precisa Di società, di comunità, ma persino della vita, delle relazioni delle persone L'altro elemento è che queste piazze esprimono, certo parzialità Le ragazze e i ragazzi di Friday for Future hanno scelto la grande priorità dell'ambiente Però sono parzialità, come le sardine, la partecipazione Ma sono parzialità che comunque alludono a una complessità Questo è il punto Non sono piazze separate né separabili Né separabili Questo è il punto E io credo che l'altro elemento che vorrei dire Che esprimono un grandissimo protagonismo Ma con un limite Che hanno poco ruolo politico E mi spiego Io credo che il protagonismo sia fondamentale Penso al Movimento delle Donne Il Movimento delle Donne in questi anni, in questi ultimi anni Ha espresso un protagonismo straordinario In Italia ma anche in tutto il mondo Pensiamo al Sud America Bolsonaro, il Cile, la Polonia Non una di meno è nata lì Non è nata in Europa Dove c'era il femminismo molto eurocentrico È nata in Sud America Quindi il femminismo aveva sicuramente Ha espresso un protagonismo Eccezionale Ma non ha ancora sufficiente ruolo politico E questo è un problema come vedremo Non certo delle donne Perché Io credo che si sono citati gli anni 70 Ecco questo è il punto Il Movimento delle Donne è sempre stato Come dire conflittuale Con le istituzioni Ma il conflitto veniva rappresentato Veniva riconosciuto e rappresentato Tutti i conflitti Il conflitto sociale Il conflitto delle lotte operaie Il conflitto dell'ambiente C'era però una sponda politica Che era un partito della sinistra Che nel conflitto lo rappresentava Lo riconosceva e lo rappresentava Cioè io credo che questo sia Sia un punto di fondo Allora Giulia ci diceva Noi oggi siamo di fronte Una volta eravamo di fronte Alla crisi del socialismo reale Oggi siamo di fronte Alla crisi della socialdemocrazia Io direi di più Delle illusioni della socialdemocrazia E quindi siamo apertamente di fronte Alla crisi palese del capitalismo Io credo che questo vada nominato Per quello che è E credo che uno dei limiti giganteschi Della sinistra sia stato questo Perché attraverso le politiche La contiguità con le politiche neoliberiste Ha portato avanti le compatibilità Che hanno messo in crisi In nuce la possibilità della trasformazione Noi quando abbiamo votato Loro Io no Il pareggio di bilancio in Costituzione Abbiamo dato un colpo mortale All'idea stessa della trasformazione Non solo alle lotte sociali Non solo al riconoscimento del conflitto Ma all'idea stessa della trasformazione E quindi all'idea identitaria stessa Della sinistra Perché se no non capiamo Perché c'è questa crisi Lo spopolamento delle piazze Il disagio La rottura di fiducia La sottrazione di fiducia Anche tra le donne Perché Giulia diceva Le donne moltissime O non sono andate a votare Hanno votato destra E si sono paradossalmente sentite più protette Diceva Fabrizio La parola d'ordine Una parola potente La protezione Ma si sono sentite protette Dai muri Dalla ricerca dell'ordine Dalle appartenenze ristrette Persino io dico Dal patriarcato Questo è un problema gigantesco Il femminismo ha posto Delle probleme di trasformazione generale E io credo Noi come casa Lanceremo dei laboratori di approfondimento Sui femminismi Perché a differenza degli anni 70 Il femminismo oggi Ha una radicalità in sé E una complessità Che riesce a leggere la modernità In un modo assolutamente avanzato Quando i giovani di non una di meno Mettono insieme Quei nessi che erano i nessi Della trasformazione Trasformazione Classe Razza e sesso Ci impongono Un'idea della trasformazione Un programma Un progetto Ma anche proprio Un'idea della trasformazione E io credo che Il femminismo oggi Incontri Per la sua radicalità Naturalmente Tutti i movimenti Di opposizione E di resistenza Questa io credo Che sia la natura Straordinaria Con Francesca Faremo un'assemblea Su questa importanza Dello sciopero globale Dell'8 marzo Discutiamone Ma è un tema Che pone Una E certo È un tema di fondo Il nesso tra produzione E riproduzione Un tema storico Per la cultura femminista Ma è modernissimo Oggi All'interno Delle compatibilità E delle politiche Neoliberiste Quindi la capacità Di proporre Uno sciopero globale A partire appunto Se un giorno Ogni donna Si fermasse Che cosa significa? Perché ci hanno rubato I nostri linguaggi Parlano di noi donne Parlavamo di Femminializzazione Per mettere In crisi No? I ruoli sessuati Ed è diventato Precarietà assoluta Parlavamo di lavoro Di cura Ed è diventato Sussidiarietà E sostituzione Del welfare pubblico Parlavamo di personale Politico Ed è diventata La miseria Della politica Intemista Allora Qui c'è un problema Gigantesco C'è una difficoltà Per i movimenti Di ricollocarsi Nella modernità Ma c'è un problema Di interlocuzione Politica Che manca Perché queste piazze Chiedono Chiedono Riconoscimento Esistenza Partecipazione Ma chiedono Necessariamente Anche se non lo chiedono Dico Comunque devono chiedere Necessariamente Un'interlocuzione Politica Questo è il punto Ma di un'altra politica Di un'altra politica Perché Non è un caso Che i voti Della Ellish Line Con la lista coraggiosa In Emilia Romagna Abbiano superato Di gran lunga Non solo quelli del PD Ma di tutte le elezioni Precedenti In Emilia Romagna Allora serve un'altra politica E io dico anche Un'altra sinistra Un'altra politica Io Non sono stata Mai del PD Ho lasciato da tempo Un partito Grandissimo Come quello di Rifondazione Comunista E sono oggi Politicamente single Che Maura Cossutta Sia politicamente single È un grandissimo problema Non solo personale Mio Ma credo politico Perché come me Ce ne sono milioni Di compagne Di donne Di uomini Che si sottraggono Da cosa Dalle logiche Asfittiche Dei partiti Della sinistra radicale Lo dobbiamo dire Perché non abbiamo Solo bisogno di radicalità Perché la sinistra radicale Non ha intercettato La crisi del Partito Democratico Perché la sinistra radicale Non ha intercettato La crisi Dei Cinque Stelle Ce lo dobbiamo chiedere Perché questi movimenti Noi non possiamo essere Come dire Portatori di finto ossigeno Perché poi invece Diventano idride carbonica A questi movimenti Lasciamoli vivere Lasciamoli respirare Per conto loro Perché noi dobbiamo Noi Noi dico Perché abbiamo avuto Complicità Ruoli Errori di autoreferenzialità Di carierismo Di opportunismo Di correnti Serve un'altra idea Non solo della politica Ma delle pratiche politiche E allora qui io Volevo appunto Finire Serve certamente Tenere il filo Perché noi abbiamo detto Ci sono tantissime realtà Ma io credo Che si possa Tenere un filo Un filo Di tutte queste parzialità Dentro a una complessità Dentro a un progetto Di trasformazione Sicuramente Bisogna tenere il filo Ma bisogna anche Assolutamente Chiedere Alla politica Non ai movimenti Di studiare Di ritrovare una teoria Della trasformazione E di scegliere La radicalità Cioè serve il coraggio E la coerenza Delle scelte Applausi